Assessori ufficialmente presenti in giunta ma di fatto assenti, delibere approvate, pubblicate nell'albo pretorio ma poi ritirate, un sindaco che anziché attraverso i canali istituzionali dialoga solo sui social network e la sensazione che nella delibera legata al fallimento del baricalcio ci siano troppe cose che non quadrano. Sulla questione la reazione dell'opposizione del comune di Bari non si è fatta attendere, stiamo parlando di atti pubblici, hanno ribadito i consiglieri del centrodestra e tutta questa vicenda per come è stata gestita costituisce un precedente di una gravità inaudita. Noi contestiamo in assoluto l'iniziativa del sindaco che ha smentito pubblicamente l'adozione di questa proposta di delibera, ora sono atti pubblici che sono stati affissi nell'albo pretorio, la cittadinanza ne ha conoscenza, tutti sono a conoscenza dell'approvazione di questa delibera, è inammissibile ed è inconcepibile che da una seduta di giunta comunale in cui assiste quale notaio e quindi quale garante della legalità e come consulente giuridico della stessa giunta il segretario generale venga commesso un errore così madornale. Questo rappresenta un grave precedente perché nessuna delibera avrà più il carattere da certezza. Questa vicenda ha suscitato naturalmente grande clamore perché ha investito l'associazione sportiva Bari che è nel cuore di tutti i cittadini baresi. Ma se avesse interessato un comune cittadino, un pinco pallino qualsiasi, l'uomo qualunque, chi sarebbe sceso a difesa di quest'uomo qualunque per l'errore di questa amministrazione così superficiale e così disattenta in atti di grande rilevanza e di grande importanza? Io credo proprio nessuno.